Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Anche oggi una eroica figura femminile, grandissima, che ho scoperto naturalmente quando mi sono occupato diversi anni fa di Tibet, quando scrivevo il mio libro, primo libro sul Tibet, il buddismo tibetano, non potei naturalmente non imbattermi e approfondire i saggi, i testi della grande Alexandra David Neal, in particolare il più celebre, ancora oggi il più celebre, il più magico, il più mistico, appunto mistici e maghi del Tibet. Ebbene sicuramente questa straordinaria antropologa orientalista, pensate che è stata la prima donna bianca a mettere piede a Lhasa, la capitale del Tibet, quando la regione era vietata agli stranieri, e fece una marcia di oltre otto mesi, otto mesi di marcia partendo dal sud della Cina, dallo Yunnan, attraversando il Tibet, e arrivò nel 1924 alla città allora proibita del Dalai Lama, ovvero appunto l'Asa. E sicuramente è stata attraverso questi viaggi ha scoperto il segreto della longevità, perché ha vissuto cento anni, quasi cento uno. È nata infatti il 24 ottobre 1868, la nostra eroica Alexandra David Neal, che in realtà si chiama Louise Eugénie Alexandrie Marie David, e quindi avete sentito è francese, ed è morta l'8 settembre 1969. Quindi dai suoi viaggi in Tibet, dalle esplorazioni, dalle scoperte, dall'incontro con i grandi mistici tibetani, sicuramente ha portato e ha scoperto e ha portato in Occidente il segreto della longevità. Ma a terra di questo la figura di Alexandra David Neal è una figura ormai, possiamo dire, archetipica, l'archetipo della grande viaggiatrice, dell'instancabile esploratrice, della volontà di cercare il significato più profondo delle cose, la brama, il desiderio di conoscenza della verità e anche il desiderio carnale della spiritualità. Tutta l'umanità e tutto l'umanismo di Alexandra David Neal, secondo me, sta proprio in questo carnale desiderio di assoluto, cioè carnale nel senso emozionale, nel senso di emozionale, nel senso di sensitivo, nel senso cioè di una percezione sensoriale dell'esperienza mistica dell'essere qui e ora, quindi della presenza mentale, della meditazione, l'esperienza mistica dello stare nella presenza dello spirito e nel percepirlo e continuare a percepirlo. Infatti uno dei temi dominanti del pensiero di Alexandra David Neal è senza alcun dubbio quello della concentrazione. Nella concentrazione, nel superamento attraverso la concentrazione di tutti i limiti mentali, Alexandra David Neal trova il cuore, il centro dell'esperienza mistica dal punto di vista anche di testimonianza antropologica nella sua relazione con i mistici tibetani. Questo ci porta semplicemente a raccontare questa figura oggi ma soprattutto a portare una parte del suo pensiero con dieci citazioni che vi voglio leggere, dieci citazioni che riguardano direi quello che insieme alla ricerca carnal spirituale, cioè attraverso la sensorialità della illuminazione e della presenza spirituale, quelli i temi principali della sua vita, della sua esperienza, che sono due temi apparentemente speculari se non in conflitto e che in Alexandra David Neal trovano una bellissima dialettica. Sono il tema della relazione con l'altro e il tema della solitudine, il tema della ricerca attraverso l'esperienza del viaggio, perché questo naturalmente è il super tema che ci può portare Alexandra David Neal, che ci porta Alexandra David Neal, cioè l'esperienza del viaggio come esperienza di autentica crescita, di autentica conoscenza. Il libro del mondo, non come oggi si dice la scuola della vita, ma il libro del mondo, il libro della natura, i caratteri del mondo scritti nel libro della natura, nel linguaggio della natura, si possono leggere soltanto se si fa un'esperienza diretta e in questo senso il viaggio è l'esperienza essenziale. Dal viaggio questi due temi fondamentali, appunto in dialettica, dinamicamente dialettici l'uno con l'altro, che sono la relazione, l'incontro con l'altro e allo stesso tempo la solitudine. Su questi due bellissimi temi, su questi due poli che sembrano opposti, ma che invece si rivelano necessari l'uno all'altro per una completa esperienza di vita, a questi due poli fanno principalmente riferimento le dieci frasi che ho scelto per voi di Alexandra David Neal. Questa è la prima che riguarda appunto l'esperienza con l'altro e l'illusione dell'altro. È freddo e triste, dice Alexandra David Neal, quando chiedi agli altri di sostenerti, di riscaldarti, di alleggerire il peso della tua sofferenza. Nessuno di loro si preoccuperà veramente di farlo, perché nessuno di loro può veramente farlo. È dentro di te che devi coltivare la fiamma che scalda. È soltanto su di te che devi contare. Questa è probabilmente la frase, tra quelle che ho scelto naturalmente, che rivela questa doppia polarità. Il bisogno dell'altro allo stesso tempo però la consapevolezza che l'altro non può risolvere per te le tue cose e quindi essenzialmente che l'altro è un'illusione e che soltanto dentro di te puoi trovare la soluzione dei tuoi problemi, puoi trovare la fine delle tue sofferenze. E questa seconda citazione è legata a questa, è una conseguenza di questa, cioè la crescita dentro di te grazie alla sofferenza. La sofferenza innalza le anime che sono veramente grandi. Sono solo le anime piccole che sono rese meschine da essa. E ancora sulla solitudine, bellissima frase, non appena la più piccola scintilla di saggezza è entrata nello spirito di un uomo, egli aspira alla solitudine. Ma ecco invece il viaggio come incontro, incontro con l'altro che è incontro sia con l'altra persona ma anche incontro con l'altro da sé, ovvero con la natura, con la realtà esterna della natura. Intanto l'importanza dell'incontro con l'altro. Chi viaggia senza incontrare l'altro, dice Alexandra David Neal, non viaggia, semplicemente si sposta. E poi ecco il bellissimo rapporto con la natura e dovrebbe far riflettere sia i non ecologisti sia gli ecologisti o presunti tali di oggi che, come già aveva ampiamente intuito Arnenes negli anni 80, 70 e 80 del ventesimo secolo, il grande filosofo dell'ecologia del profondo, l'ecologia non è un rapporto tra due entità separate, è il tentativo di comprensione di essere nel mondo, è il tentativo di capire sempre di più, di entrare sempre di più nel fatto che tutti noi siamo natura. Quindi guardiamo il mondo attraverso gli occhi del mondo stesso e scopriamo attraverso questo esercizio illuminante, attraverso questa illuminazione, il fatto che noi non siamo separati ma siamo parte della natura stessa. Ecco il segreto di scoprire attraverso il viaggio direttamente la natura. Così dice Alexandra David Neal, chi conosce meglio il fiore, colui che ne legge in un libro o colui che lo trova selvatico sul fianco della montagna. E poi ancora, sempre in relazione al mondo ma sempre attraverso gli occhi del solitario, per chi sa guardare e sentire ogni momento di questa vita libera ed errante è un incanto. E ancora, i paesaggi hanno un linguaggio proprio, esprimono l'anima delle cose, alte o umini, che li costituiscono, dalle vette possenti al più piccolo dei minuscoli fiori nascosti nell'erba del prato. Ed ecco invece la frase che ci rivela l'importanza della relazione con gli altri insieme a quella precedente, oltre alla relazione con la natura. Tutto è vano eccetto la bontà. La bontà è il cuore della relazione degli esseri umani tra di loro. Infine tre bellissime frasi che sono slegate dalla nostra suggestione ma che trovo molto molto motivanti. Prima frase, trascurare le piccole cose con il pretesto di voler realizzare quelle grandi è la scusa del codardo. Seconda, guardati dagli idoli. Sì, guardati da tutti gli idoli, di cui sicuramente il più grande sei tu stesso. E infine, come stoico devo disprezzare le ferite, o piuttosto non devo sentirle. Non devo esserne colpita affinché non possano queste ferite violare mai la libertà della mia anima. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani, per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. Grazie. 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 Grazie.